Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, un chilometro di coda in direzione mare tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Rallentamenti per incidente in direzione Firenze tra Ginestra e la Strassigna. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!